Buonasera, da quanto è emerso nelle pagine del decreto con il quale il giudice del Tribunale d'Imperia ha messo l'apporto SPA alla procedura del concordato per evitare il falimento e viste le considerazioni fatte dallo stesso giudice nei confronti della Procura, ora gli avvocati dell'amministratore unico della SPA Giuseppe Argirò puntano il dito sul pubblico Ministero Maria Antonia Di Lazzaro e le chiedono formalmente di astenersi da ulteriori indagini per gravi ragioni di convenienza, insomma fra Argirò e Procura è guerra aperta, ascoltiamo quanto ha dichiarato stamani dall'amministratore della SPA del Porto. Nella giornata di oggi sarebbe stato importante comunicare ai media e al mondo esterno l'importanza del provvedimento assunto dal Tribunale in ordine al decreto di ammissione al concordato preventivo della Porto Impere SPA, di come siamo stati per esempio autorizzati a fare un tratto nuovo di viabilità delle richieste che abbiamo fatto adesso per l'apertura del distributore piuttosto che gli interventi sulla funiatura che intendiamo fare a breve per l'agibilità del Molo San Lazzaro e quindi rendere disponibili i fabbricati per i corpi dello Stato. Tuttavia nella giornata di oggi con una consueta coincidenza che si è già verificata il 21 di marzo giorno del deposito del piano concordatario in cui abbiamo dovuto discutere dell'indagine relativa ai miei emolumenti così come è successo il 31 luglio quando abbiamo depositato i documenti in Tribunale con riferimento appunto all'ammissione del concordato abbiamo dovuto discutere dei sequestri operati all'Agenzia delle Entrate, dei sequestri che si sono succeduti nei giorni successivi di agosto. Anche oggi anziché parlare del futuro del porto di questo decreto di ammissione invece devo parlare di un'indagine a mio carico un'indagine che letteralmente è false comunicazioni al pubblico ministero in realtà sono stato interrogato questa mattina e ho voglia di spiegare qual è la motivazione per cui di fronte al pubblico ministero dottoressa Di Lazzaro ho deciso di avvalermi della facoltà di non rispondere. Risponderò invece a voi giornalisti, spiegherò a voi giornalisti e voglio spiegare all'opinione pubblica. Ho deciso di non rispondere e di avvalermi della facoltà di non rispondere con il pubblico ministero perché abbiamo depositato preventivamente un invito alla stensione ex articolo 52 del codice di procedura penale perché riteniamo che il pubblico ministero come peraltro indicato nel provvedimento del tribunale si sia resa parte in questa vicenda avendo promosso l'istanza di fallimento diciamo da parte della procura e a seguito di tutta una serie di azioni francamente molto discutibili molto molto discutibili alcune anche molto gravi ma che poi saranno verificate nelle sedi proprie abbiamo depositato un documento invitandola ad astenersi. Naturalmente la dottoressa ha ritenuto di proseguire per questo motivo ho deciso di avvalermi della facoltà di non rispondere. Il fatto riguarda una mia risposta in ordine ad una domanda che mi ha fatto la dottoressa Di Lazzaro il 5 di aprile domanda in cui ho risposto essendo sentito come testimone convocato e che durante un interrogatorio che è durato parecchie ore come peraltro ha già stigmatizzato nel suo provvedimento il tribunale con una metodologia francamente molto discutibile ma sono parole naturalmente del tribunale per cui le persone vengono sentite scusse per sommare informazioni in assenza dei loro avvocati quindi senza nessuna tutela diciamo di parte si colgono poi quelle dichiarazioni per avviare dei procedimenti penali. Nel mio caso mi fu rivolta la domanda se io sapevo che l'avvocato Napoli era l'avvocato nel processo di Torino del dottor Gianfranco Carli. Io risposi che sapevo che l'avvocato Napoli era un avvocato civilista che assisteva imperia sviluppo che assisteva la famiglia Carli ma non sapevo se difendeva anche se era nella delega anche nel processo di Torino e risposi che io sapevo che l'avvocato del dottor Gianfranco Carli nel processo di Torino era l'avvocato penalista non civilista come Napoli. Mittone mi sembrava anche tra l'altro più coerente e logico. Sulla base di questa risposta cioè del fatto che io non sapessi e sulla base di una successiva mail che mi è giunta in cui si faceva un generico riferimento ad un incontro tra Gianfranco Carli e lo stesso avvocato Napoli mi sono stato iscritto il registro degli indagati per farsi comunicazione al pubblico ministero. Un reato gravissimo ed è una cosa che francamente mi fa anche un po' arrabbiare perché io ho molti difetti ma ci tengo molto la mia dignità personale e questo lo considero un fatto gravissimo. Combinazione arriva al mio interrogatorio all'indomani di un provvedimento. Tra l'altro un provvedimento del Tribunale che peraltro ha già smontato ampiamente tutte le altre considerazioni e memorie depositate allo stesso pubblico ministero. Pertanto a grandissimo malincuore abbiamo dovuto fare questa scelta. Ci tengo a precisare una cosa fondamentale. A mio giudizio la Procura ha svolto in questa vicenda del Porto un ruolo importantissimo e un ruolo sicuramente positivo nel perseguire tutte le responsabilità che evidentemente ci sono, che poi naturalmente sarà il Tribunale in qualche modo a verificare se queste responsabilità oggettive sono anche di rilievo penale o meno. Però devo dire che in quest'ultima fase questa volontà pervicace del pubblico ministero di perseguire il fallimento ad ogni costo di questa società, come peraltro ha detto lo stesso Tribunale, francamente non si capisce dove voglia portare. Io sono sereno, mi spiace molto aver dovuto fare questa scelta così forte nei confronti di un'istituzione di cui ho grandissima stima e grandissimo rispetto. Conosco il grande equilibrio del procuratore capo della Repubblica d'Imperia, dottoressa Geremia, però purtroppo sono stato costretto per difendermi a promuovere questo invito alla stensione per gravi motivi di convenienza e opportunità al pubblico ministero dottoressa Di Lazzaro. Francamente avrei preferito in una giornata come oggi parlare del futuro del Porto, perché le condizioni per il futuro si stanno creando, magari da domani potremo cominciare a riparlarne. E dopo le diverse notizie che si sono diffuse ultimamente circa la possibilità che la provincia decida di trasferire all'estero i rifiuti, sulla vicenda è intervenuto Carlo Ghilardi, amministratore unico della Idroedil, la società che gestisce siti di colli e collette ozotto. Ghilardi fra le altre cose è evidenziato come i costi di trasporto inciderebbero fortemente sulle tariffe e come dopo 40 anni di gestione privata la provincia d'Imperia possa finalmente ottenere il totale controllo del sistema di smaltimento e dei rifiuti. Sentiamo. Carlo Ghilardi, amministratore unico dell'Idroedil, ecco voi siete diciamo coinvolti direttamente in questo discorso di collette ozotto, l'otto 5, l'otto 6, la famosa discarica ora contestata che dovrebbe fra l'altro diventare pubblica. Come state vivendo questa situazione da privati che comunque chiaramente hanno un interesse anche diretto in questa vicenda? Male, male perché è 4 anni che si lavora per cercare di risolvere questo problema dei rifiuti e si manda a palino tutta una programmazione che dava parola fine a questo problema dei rifiuti. E' 40 anni che stiamo svolgendo l'attività in un sistema provvisorio, finalmente si poteva dire parola fine e risolto il problema dei rifiuti nella provincia d'Imperia. Non sarò io a dire che farò questo tipo di attività perché sarà frutto di una gara internazionale per portare a termine questa problematica, però siamo stati i promotori di rappresentare un progetto finan per risolvere questo problema. Ecco Ghilardi, però chiaramente la gente dice anche che sono 40 anni che i rifiuti vengono portati lì, adesso basta, vanno da un'altra parte, si faccia qualcos'altro. C'è un'indagine conoscitiva dalla quale sono arrivate anche proposte per portare i rifiuti in Germania, in Olanda. Per il privato ovviamente potrebbe essere, nel suo caso a livello locale, una sgonfitta commerciale da questo punto di vista, ma se andasse bene per i territori? Io ritengo che la sconfitta è quando si cerca un tentativo che va a gravitare sulla collettività. Noi in 40 anni di attività l'unica volta che si è provato a portare i rifiuti a vado siamo andati a buttare via 4 milioni e 800 mila euro, soldi che si poteva risparmiare perché il progetto nostro di ampliamento non si faceva. Quindi 4 milioni e 800 mila euro sono costati in più per portare i rifiuti a vado. Esattamente, rispetto a quello che si spendeva nel colletto zotto è utile che la collettività sappia che per 10 mesi abbiamo buttato via 4 milioni e 800 mila euro in più. Se questa ricerca di mercato fa risparmiare qualcosa, io sono dell'avviso che si faccia questo. L'importante è salvaguardare la collettività e non continuare a aumentare i prezzi. Ecco, ma la sua esperienza cosa le fa dire sul fatto di portare i rifiuti in Germania? C'è un risparmio che non ci potrebbe essere, in realtà i costi di trasporto, necessità anche poi di trovare un punto per abbancarli qui e caricarli su navi, su gomma? Io vedo una difficoltà che è dovuta alla distanza. Qui non siamo a Napoli che abbiamo un porto, è una città che produce moltissimo, non c'è sosta della nave. L'immaginare di avere una nave stoccata a Savona, ci vuole sempre in loco una stazione di trasbordo per preparare questi rifiuti per essere imbarcati. Ho l'impressione che se anche hanno fatto un prezzo molto basso, perché hanno gli inceneritori da far funzionare e con la raccolta differenziata diminuite anche la quantità che va negli inceneritori. Prezzo però franco inceneritore, franco Germania, cioè poi bisogna aggiungere il resto. Esattamente, bisogna aggiungere una piattaforma per trasbordare questi rifiuti e renderli compatibili all'imbarco. E poi non so cosa viene a costare. Io ho l'impressione che andremo a costare molto di più rispetto a quello che si potrebbe spendere qui in loco. Ecco, c'è una cosa un po' particolare e curiosa. Lei, sono circa 40 anni, che gestisce questo sito Colli con l'Eteozotto da privato, come abbiamo detto fino adesso. Oggi però non si parla più di fare una discarica privata. Queste discussioni stanno nascendo nel momento in cui questa discarica non sarebbe più la sua, comunque. Ebbene ha fatto l'amministrazione di rendere pubblica questa discarica e fare una gara europea per il bando. Vinca il migliore. Io sono di questo avviso qua, perché finora siamo andati avanti con questa provvisorietà, con questa incertezza. Io sono andato avanti 40 anni, però ho lavorato anche in un sistema senza una programmazione. Oggi se si fa un appalto, vinca il migliore che si risolve il problema. E mi ricresce, perché questo lotto qua è l'ultimo lotto che si fa alle Colletteozotto, perché poi scatterebbe il progetto Finan per fare l'impianto definitivo. Anche lì sarà una gara internazionale ed è risolto il problema. Io sono dell'avviso che se si fanno programmazioni a lungo termine i costi diminuiscono senza altro da fare lo smantimento. Ecco, mi scusi, lasciamo da parte i privati, i comitati cittadini che è anche comprensibile. Voglio dire che un privato cerchi di mandare più lontano da casa sua situazioni come una discarica. ma il comune di Sanremo, mi correga se sbaglio, fino all'altro giorno ha fatto continue proroghe a un privato. Oggi si sta opponendo a un qualcosa di pubblico, strano. Esatto, qui mi meraviglia, non ho capito l'atteggiamento del comune di Sanremo, che anche lui aveva sottoscritto questo accordo di programma di portare a termine questa problematica, poi improvvisamente sulla scorta di un sede e comitati, in poche parole, che sono nati, no. E anche lui ha cambiato bandiera, questo qua mi è difficile capirlo. Presentati questa mattina i due nuovi ufficiali dei carabinieri, il tenente Paolo De Alescandris e il capitano Giorgio Sanna, che andranno ad assumere rispettivamente il comando delle compagnie di Sanremo e Ventimiglia. A presentarli alla stampa è stato il comandante provinciale, il colonnello Luciano Zarba. Sì, io sono Paolo De Alescandris, il nuovo tenente comandante della compagnia carabinieri di Sanremo. Un incarico per me nuovo e prestigioso, sono orgoglioso naturalmente dell'incarico che il comando generale mi ha voluto conferire. Un comando impegnativo dal punto di vista operativo, ma che non mi spaventa, vengo da una realtà campana dove dal punto di vista operativo sono sicuramente stato impegnato e continuerò con l'impegno che ho dato finora al servizio dell'istituzione del cittadino. Sono il capitano Giorgio Sanna, originario della provincia di Cagliari, sono giunto pochi giorni fa alla compagnia di Ventimiglia, ho assunto il comando il giorno 30 e mi sto rendendo conto della situazione del territorio per poter poi operare con i carabinieri, con i militari, coi personaggi che abbiamo e tenere sotto controllo il territorio. Io ho già esperienza di comando di compagnia, ho iniziato in Valtellina a Sondio dove sono stato dal 2001 al 2006, poi ho retto il comando della compagnia di Tortona per 7 anni. realtà diverse l'una dall'altra, come diversa la realtà di Ventimiglia rispetto alle precedenti e sto cercando di inserirmi bene nel contesto per poter poi operare. Una cosa che ho cercato sempre di mantenere alto è la vicinanza dell'arma ai cittadini e cercare sempre la collaborazione dei cittadini in modo che l'arma possa operare proficuamente. Quello che si chiede è di collaborare con noi, di non farsi problemi a chiamare, a telefonare in qualsiasi caso, quando c'è bisogno di aiuto per qualsiasi situazione. Noi siamo sempre disponibili. Ora se qualcuno avesse l'aspirazione di trasformarsi in Top Gun per un giorno, potrà farlo recandosi all'aeroporto di Villanova d'Alvenga. Stamani infatti è atterrato il primo dei tre caccia a reazione che saranno a disposizione del pubblico per un particolare battesimo dell'aria. Si tratta dell'inizio di una collaborazione fra lo Scali e una società privata che presto proporà anche collegamenti aereotaxi con Roma. Vediamo. Alessandro Pasqualini, presidente dell'aeroporto di Villanova d'Alvenga, allora si arricchisce possiamo dire di una nuova compagnia, una compagnia che presenta anche dei jet, un progetto nuovo per questo scalo. Ma quello che sta succedendo oggi a D'Alvenga è un progetto nuovo per l'Italia. La compagnia si inserisce in un mercato che non c'è in Italia. È un mercato che sicuramente è un mercato di nicchia, ma è un mercato che contribuisce notevolmente a veicolare l'immagine dell'aeroporto. Questo è, d'altro canto, un primo passo che va verso le linee indicate nel piano presentato un anno fa da Ava per avere la concessione e dove Ava individua nel traffico dell'aviazione d'affari, generale, aerotaxi, il business su cui svilupparsi per i prossimi anni. Questo è un fatto molto importante. Sicuramente ci saranno tanti altri eventi che contribuiranno, mi auguro, a corroborare l'immagine che si vuol dare di questo aeroporto. È un'immagine che è legata al territorio, per cui tutte le iniziative intraprese dall'aeroporto vengono sempre intraprese facendo riferimento al territorio, che è la vera ricchezza di quest'aeroporto. Presidente Vaccarezza, anche la provincia di Savona vicina a quest'aeroporto e non potrebbe che essere così oggi una novità, una novità di respiro nazionale, non soltanto locale, con questa compagnia di aerotaxi che opera anche nel settore dei jet militari. Quando io sono diventato presidente della provincia, l'amministrazione provinciale di Savona deteneva il 20% del pacchetto nazionale dell'aeroporto di Villanova. Oggi l'amministrazione provinciale di Savona ne detiene poco meno del 43%. In questi anni, potremmo dire in maniera molto diretta, ci abbiamo creduto praticamente solo noi e oggi per noi è una grande giornata. È una grande giornata perché è la prima di una serie di obiettivi centrati, i presupposti li abbiamo alle nostre spalle con lo stabilimento della Piaggio che si è trasferito qui e che ha dato e darà grandi opportunità a quest'aeroporto. Questo è uno dei risultati che si stanno ottenendo, nelle prossime settimane ne arriveranno altri importanti, arriverà la concessione e quindi arriverà la possibilità e la certezza di fare programmi a medio e lungo termine. Nella fattispecie la mattinata di oggi ci mette in contatto con un soggetto che ha una serie di progetti sull'aeroporto che presenterà, stamattina ne presenta uno che è questo sogno, questo rev per dirlo alla francese, visto che la lingua ufficiale stamattina qui sarà alla francese, di fare per un giorno il pilota da caccia. Per un giorno tutti potranno diventare top gun realizzando il loro sogno, venendo qui con tutta, casco e la possibilità di volare su un caccia da guerra. Quello che arriva stamattina è uno delle frecce tricolori della pattuglia acrobatica francese, è il modello precedente a quello attualmente in utilizzo, è una delle occasioni che si troveranno nell'aeroporto di Villanova. Tante cose qua sono già successe e devo complimentarmi con l'attuale gestione e con coloro che in questo momento ci stanno lavorando. Tante cose dovranno ancora succedere, un grande sogno, parla di nuovo francese, lo sveleremo fra qualche settimana, però quello realmente sarà il grande colpo da cui l'aeroporto di Villanova ripartirà, anzi no, ridecollerà. Ridecollerà guardando al turismo, come dicevamo, non soltanto la provincia di Savona ma per ovvi motivi connessi non solo alla storia ma anche alla geografia, anche alla provincia di Imperi. Sì, il nostro sogno si chiama Nizza. Noi vogliamo diventare per Nizza la seconda ala. Cannes è l'ala di Ponente, noi saremo l'ala di Levante. I rapporti è già da tempo che li stiamo portando avanti, anch'io partecipato a diversi incontri, il prossimo passaggio sarà proprio quello e credo che avere un aeroporto di queste dimensioni collocato in quest'area meravigliosa che non lavora solo 15 giorni o 20 giorni all'anno ma dà opportunità per tutto l'anno e avere una collaborazione e forse qualcosa in più. Con l'aeroporto di Nizza ci dà la possibilità di guardare al futuro turistico di quest'aeroporto. E alla rappresentante di Diamond Wings chiediamo naturalmente quali sono i progetti che stanno per decollare, è il caso di dirlo, dall'aeroporto di Villanova dal Beng. Dopo l'aereo che sta per arrivare ne arriveranno altri due, questo è un aereo francese che ha prestato servizio nella pattuglia acrobatica francese, poi ci sarà un aereo russo fabbricato però in Cecoslovacchia e un aereo inglese che ha la particolarità di consentire al passeggero di sedere a fianco del pilota, mentre negli altri due il pilota è davanti e il passeggero sta seduto dietro. Qui all'aeroporto di Villanova proporremo dei voli, dei battesimi dell'aria con questi aerei da caccia totalmente demilitalizzati e questi aerei permetteranno alle persone in sostanza di giocare almeno una volta a Top Gun. Parallelamente a questo progetto ne abbiamo altri tesi a far venire qui dei business jet per alimentare il turismo di questo territorio ma creare anche servizi di aereo taxi soprattutto fra Albenga e Roma. Sarà un aereo con 19 posti occuparsi di questo, il progetto però è in via di definizione. Quarto giro di aumenti per i prezzi dei carburanti sulla rete di distribuzione nazionale a causa della crisi siriana che pesa sui destini anche se la crisi sembra pesare solo sull'Italia. Nuovi rialzi di benzina e diesel in scia, la crisi siriana. La soglia di 2 euro al litro è sempre più vicina non solo per i venti di guerra ma anche per la paura dell'aumento dell'IVA. Nonostante il calo dei prezzi sui mercati internazionali come sottolineano Quotidiano Energia e Staffetta Quotidiana, la verde arriva oltre l'1,88 euro al litro e il diesel 1,77 euro nei distributori Eni con aumenti anche per IP e Kuwait. Si tratta del quarto giro di aumenti per i prezzi dei carburanti all'indomani dell'avvio della bollente situazione in Siria. Il Codacon si attacca adesso i gestori che speculano sul rientro dalle ferie mentre la Coldiretti lancia l'allarme a settembre a rincari per 4,4 milioni in vacanza nel mese incoraggiati dalle previsioni meteo sull'arrivo dell'ultimo scampolo di estate. La cronaca soliti ignoti in azione la scorsa notte ad ospedaletti ad essere preso di mira è stato un negozio di alimentari in corso di Gina Margherita. I ladri hanno rubato l'intera cassa contenente del denaro. Ora sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine per cercare di risalire ai responsabili. I poliziotti del commissariato di Ventimiglia hanno individuato ieri sera sull'autoporto della città di confine un camionista sospettato di asportare gasolio dai camion in sosta. Nel suo mezzo sono state trovate tanniche pompe per aspirazione di liquidi e per questo ora gli accertamenti sono stati ampliati attraverso l'analisi di diverse denunce di furti di gasolio per verificare se l'uomo o meno di 35 anni faccia parte di un'organizzazione a delinquere più ramificata che opera fra Liguria e Piemonte. Facciamo una breve pausa, ci sentiamo tra poco. L'inflazione scende ma il carello della spesa sale dell'1% in particolare in un servizio di ADN Cronas. Rallenta ad agosto l'inflazione secondo i dati provvisori resi noti dall'Istat ma per il Codacons la lieve frenata è legata purtroppo ad aspetti congiunturali come l'ulteriore crollo della domanda dovuto al periodo di ferie o il rallentamento dei prezzi su base annua di alcuni prodotti come i carburanti. Preoccupa che il carrello della spesa sia aumentato dell'1,7 e sia sempre ad un livello superiore rispetto all'indice generale. Per i consumatori significa che l'inflazione è sempre in agguato e non appena la domanda ricomincerà a risalire anche per i beni a bassa frequenza di acquisto, oggi in caduta libera, ci ritroveremo a dover fronteggiare l'emergenza prezzi. Tradotto in cifra, l'aumento dell'1,7 del carrello della spesa significa in termini di aumento del costo della vita che una famiglia media di tre persone per la sola spesa di tutti i giorni spenderà 237 euro in più rispetto a un anno fa. E sempre in un servizio di ADN Cronos parliamo di IMU e di IVA. All'idomani del CDM che ha infatti eliminato l'IMU introducendo da 2014 la service tax, sarà l'attenzione sul fronte IVA. Questione IMU alle spalle, l'IVA ora preoccupare i cittadini italiani, proprio per questo arriva uno studio della CGA di Mestre che indica chi soffrirà maggiormente il rincaro dell'imposta sui consumi. Ebbene l'innalzamento dell'aliquota peserebbe maggiormente sulle retribuzioni più basse e meno su quelle più elevate. Anche se saranno i percettori di redditi elevati a subire l'aggravio di imposta più pesante, se si confronta l'incidenza percentuale sullo stipendio netto annuo di un capo o famiglia, la situazione si trasforma completamente e l'aumento dell'IVA sarà più pesante sulle retribuzioni più basse e meno su quelle più elevate. L'ufficio studi dell'Associazione Veneta degli Artigiani sottolinea poi che a parità di reddito i nuclei familiari più numerosi subiranno gli aggravi maggiori. Per esempio, per quanto riguarda i single, l'incidenza percentuale dell'aumento dell'IVA sullo stipendio sarà dello 0,29% sul reddito annuo di 15.000 euro, ma si abbassa dello 0,27% sul reddito annuo di 55. Torna domenica a Diano Marino la tradizionale mostra venatoria organizzata dalla Federazione della caccia. Previste anche gare di canto per volatili. Domenica torna a Diano Marino la tradizionale mostra venatoria, mercato provinciale degli animali da caccia, da cortile, compagnie esotici, canarini e articoli per la caccia. La manifestazione giunta alla 59esima edizione propone come sempre anche gare di canto, oltre alla vendita di macchinari per l'agricoltura, piante e mangimi. L'iniziativa è stata organizzata dalla sezione intercomunale di Diano Marino a San Bartolomeo e Cervo della Federazione Italiana della Caccia ed è patrocinata dal comune e dalla provincia. Fin dalle prime ore del mattino si potranno udire i canti degli uccelli con premi per le diverse categorie. Altri riconoscimenti sono previsti per chi presenterà volatili di particolare interesse e per chi proporrà il maggior numero di varietà. I cantieri sull'autostrada dei fiori e il quadrometeo. L'autostrada dei fiori ha resi noti i cantieri della settimana da lunedì 2 a domenica 8 settembre nella tratta Imperia Est e confine di Stato. In direzione Francia, careggiata nord tra Imperia Est ed Imperia Ovest, riduzione di careggiata da due ad una corsia per l'installazione di barriere antirumore per miticazione agustica da lunedì 2 a giovedì 5 anche notturno. In direzione Genova, careggiata sud tra Imperia Ovest ed Imperia Est, riduzione della careggiata da due ad una corsia per l'installazione di barriere antirumore per miticazione agustica da martedì 3 a venerdì 6 anche notturno. Il quadrometeo di Arpal, meteo Liguria, le previsioni per domani, mercoledì 4 settembre. Un'altra bella giornata di cielo sereno, soprattutto sulle coste. Nell'interno non mancheranno i soliti cumuli pomeridiani, anche oggi innocui. Umidità su valori medio-bassi, i venti e i regimi di brezza sulle coste, calmi o deboli variabili nell'interno. Il mare sarà poco mosso o calmo. Dopodomani, giovedì 5 settembre, permangono condizioni di tempo bello e stabile all'insegna del sur e soprattutto sulle coste, con locali addensamenti in intensificazione nel pomeriggio dell'entroterra. Umidità su valori medio-bassi, i venti deboli da nord-est o in regime di brezza, il mare sarà poco mosso o calmo. Nessuna segnalazione di protezione civile. Il nostro giornale si guida qui, come sempre l'appuntamento alle solite edizioni oppure sul nostro sito imperiatv.it. Io vi ringrazio per averci seguito, vi lascio le ricette dello chef Renato e vi auguro una buona serata. Grazie per la visione!